in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Ben ritrovati a tutti voi cari amici di Angoli, come sempre grazie per essere con me alle 19 per iniziare la serata insieme. Naturalmente non puoi iniziare senza che io vi ricordi la nostra mail, quindi continuate sempre a scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it. Partiamo in questa prima sessione della nostra serata con degli ospiti ai quali io sono molto molto affezionata. A qualche tempo sono stati anche qui tutti quanti insieme, ma ne riparliamo invece con alcuni che li rappresentano. Noi abbiamo qui in studio con me Simone Anghileri. Ciao Simone e benvenuto. Buonasera, buonasera. Tu sei coordinatore del centro socioeducativo Noi Genitori Onlus. Io sono sicura che a casa se lo ricordano, perché qualche tempo fa, come dicevamo prima di partire con la nostra diretta, tanti ragazzi sono stati qui e hanno fatto qualche cosa di speciale che tra poco ricorderemo. Ma vado a salutare anche l'altra ospite che è collegata con me. Io saluto e ringrazio Martina Fumagalli. Ciao Martina, ben arrivata anche a te. Buonasera. Buonasera, grazie. Ciao Martina, tu sei invece responsabile di una tipografia dove accadranno e accadono delle cose particolari che tra poco ci dirai, quindi ti lascio un attimo in finestra e torno invece da Simone. Allora Simone, come dicevamo, Noi Genitori Onlus è una realtà molto importante che si occupa di ragazzi specialissimi, quindi vuoi brevemente ricordare chi siete e di che cosa vi occupate? Ok, allora la cooperativa Noi Genitori è una realtà nata nel 1994 e quindi ormai da 27 anni che è presente sul territorio erbese in modo attivo. Appunto, come hai detto te, si occupa di persone con disabilità. La cooperativa Noi Genitori comprende tre servizi diurni in favore di 63 persone adulte con disabilità, disabilità lieve, medio lieve, medio grave, grave e gravissima. All'interno di questi servizi operano 40 dipendenti e siamo un'equipe multidisciplinare, composta da educatori, uno psicologo, una psicomotricista, due fisioterapisti e anche degli operatori sanitari. La mission, in breve, della cooperativa è appunto innanzitutto il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie, perché è da ricordare che la cooperativa Noi Genitori nasce per volontà di alcuni genitori di ragazzi appunto con disabilità. Un altro pilastro molto importante della cooperativa è l'inclusione sociale, quindi permettere ai ragazzi di stare all'interno della comunità in modo attivo, quindi uscire dagli spazi della cooperativa, dagli spazi specialistici, ma partecipare attivamente alla comunità, stringendo legami con il territorio, dei legami molto forti, coinvolgendo quindi le persone, coinvolgendo volontari e le imprese del territorio. Altro aspetto molto importante della cooperativa è che la cooperativa è guidata da un'idea di ecologia, di rispetto dell'ambiente dove appunto protagonista è la natura. Ad esempio l'energia utilizzata in cooperativa proviene da fonti rinnovabili, piuttosto che alcuni materiali utilizzati in alcune attività sono materiali di riciclo, oppure per quanto riguarda il biscottificio, che ne parleremo tra poco, le materie prime sono materie prime biologiche e a chilometro zero. Quindi Simone tu hai già toccato tantissimi argomenti importanti, voglio comunque evidenziarne qualcuno, innanzitutto l'importanza dell'inclusione, che quindi ci sia anche una forte relazione con il mondo circostante, quindi questa è una cosa importantissima. E poi un altro aspetto altrettanto significativo che hai sottolineato molto bene, che l'idea nasce da dei genitori, quindi significa che c'è da parte delle famiglie una necessità anche di relazionarsi tra di loro e di avere un supporto, e quindi parte proprio da questa l'iniziativa, aspetti molto importanti. Che dici? Eh sì, molto molto importanti davvero. Certo. Perché comunque i bisogni delle famiglie sono molti e quando si trova sul territorio, comunque in realtà che ti permettano, che ti danno delle opportunità, questo è molto importante. È un appoggio molto significativo. Ma perché ne stiamo parlando ora ancora una volta? Perché stiamo per arrivare, lo sapete bene, al Natale. Quindi tra poco inizieremo a calarci in questa atmosfera gioiosa e importante soprattutto per la condivisione e tutto questo vede un momento molto importante proprio per questi ragazzi. Esatto. Perché Simone? Perché ogni anno a Natale noi organizziamo la campagna Natale Solidale, dove presentiamo i nostri cesti e dove al centro ci sono i nostri prodotti, ma non solo, però adesso mi soffermo un attimo sui nostri prodotti. Certo. Perché sono prodotti che appunto producono i nostri ragazzi all'interno del biscottificio. Ora vedremo anche le immagini, vediamo se la regia ce le manda in questo momento, dove vediamo proprio i ragazzi all'opera. Eccoli qua. Esatto. E quindi che cosa succede all'interno di questo biscottificio? Si crea? Si crea. Si creano biscotti, ci sono i nostri ragazzi che innanzitutto bisogna ricordare che sono affiancati da un'educatrice che appunto affianca i ragazzi e gli insegna a fare i biscotti. Dopodiché ci sono i nostri ragazzi, le persone con disabilità, che si occupano della produzione. Di ogni fase della produzione, quindi dall'impasto al taglio, al confezionamento dei biscotti. E inoltre ci sono anche altri protagonisti all'interno del biscottificio. Ci sono anche le scuole, perché ogni anno comunque ospitiamo dei tirocinanti provenienti dalle scuole, specialiste. Poi ci sono i volontari, i volontari che con generosità, con molta generosità, raddoppiano le loro giornate di volontariato per far parte del progetto. E poi c'è la nostra rete di vendite. Quindi una rete di vendite che comprende... Questa ragazza la conosco bene, la saluto. Come si chiama? Non mi ricordo. Vandalina. Eccola là, è stata qui. Per questo vi ho detto poco fa che questi ragazzi, qualche anno fa, sono stati proprio qui nel mio studio ad Angoli e insieme abbiamo proprio provato a realizzare questi biscotti. Quindi è un'opportunità che loro hanno portato avanti. Conosco bene anche lui, era un altro dei protagonisti qui in studio. Quindi li saluto entrambi, li saluto tutti per la verità. E quindi questa è una realtà che continua ad esistere e a dare modo a questi ragazzi proprio di fare, di fare tante cose. È un'opportunità molto importante per loro. Molto importante, certo. Ma per questo Natale non è tutto. E arrivo Martina. Martina, non mi ero dimenticata di te assolutamente. Vedi, ecco, sei ancora lì. Perché in questo Natale entri in gioco anche tu. Perché c'è quest'altra, diciamo, idea, quest'altro progetto che vorrei raccontassi tu. Che cosa succede lì da te? C'è una tipografia. Che cosa accade? Assolutamente sì. Io sono responsabile del laboratorio tipografico. Il laboratorio di tipografia nasce molti anni fa come laboratorio formativo per avvicinare appunto i ragazzi al mondo del lavoro, insegnandogli a utilizzare i vari macchinari che abbiamo qua presenti, trovando, quando necessario, degli strumenti facilitatori che consenta loro di raggiungere il risultato finale in autonomia e accrescendo così la loro autostima. Di fatto che cosa realizzate quindi all'interno di questa tipografia? All'interno del nostro laboratorio realizziamo prodotti cartacei per uso interno, come possono essere brochure, volantini per eventi, manifesti. E negli ultimi anni appunto con la creazione del biscottificio stampiamo e tagliamo anche le etichette che poi vengono attaccate su ogni singolo pacchetto di biscotti. Oltre a questo realizziamo numerosi prodotti anche commissionati da clienti esterni come possono essere le ditte o diverse aziende. In questo particolare momento ci stiamo concentrando anche noi come laboratorio tipografico per quello che concerne il periodo di Natale. Certo, e tutto questo è molto bello perché come Martina ci sta spiegando e come ci ha anticipato per quanto riguarda proprio la cooperativa Simone poco fa, è un'occasione nella quale questi ragazzi che fanno parte, che convogliano all'interno di noi genitori Ollus, è un'occasione per loro proprio di calarsi nella realtà lavorativa, di avere un contatto con l'esterno, ma io credo anche di mettere a fuoco e di mettere in gioco anche i loro talenti, le loro capacità. Martina c'è qualche aneddoto, per esempio qualche cosa di simpatico che ci vuoi raccontare? Magari i ragazzi lì quando vengono lì per fare queste, per lavorare in tipografia, magari tra di loro si consultano, hanno delle idee, vi propongono delle cose. Che cosa succede? Raccontaci un po'. Sì, diciamo che ognuno all'interno del laboratorio tipografico apporta le proprie caratteristiche, tra di loro vanno tutti molto d'accordo e la cosa positiva è che si aiutano, quindi dove uno magari ha più difficoltà viene aiutato da un altro compagno e diciamo che si crea così anche un clima favorevole per lavorare bene. Anche voi utilizzate, seguite insomma i principi importanti dell'ecologia, della sostenibilità, perché mi pare che utilizzate a vostra volta della carta di riciclo, è così? Assolutamente sì, infatti si può dire che i prodotti che realizziamo hanno un valore aggiunto per due motivi, prima di tutto perché sono fatti realizzati da persone appunto con disabilità e la seconda caratteristica è appunto che i nostri prodotti sono realizzati tutti o per la maggior parte con carta riciclata, che è un tema, come ha detto giustamente il mio collega Simone, fondamentale per la cooperativa. Certamente, Martina, ecco vediamo anche qua altre immagini che raccontano altri momenti. Simone ce le commenti? Perché dal 2020, oltre alla produzione dei biscotti che è partita dal 2018, dal 2020 produciamo anche confetture extra con il 66% di frutta di prima scelta e i ragazzi anche qui si occupano loro di tutta la produzione, di ogni fase della produzione, quindi dal taglio della frutta all'etichettatura finale e attraverso una raccolta fondi siamo riusciti ad acquistare tutti i materiali necessari per la produzione delle marmellate. Allora, io vi ricordo ancora, lo vedremo tra poco in sovraimpressione, intanto di andare a visitare il portale, insomma la pagina che vi riguarda perché lì dentro troverete sicuramente tutte le indicazioni e buona parte delle informazioni che abbiamo dato sin d'ora. Importantissimo anche l'Iban che vedete perché potete continuare a sostenere appunto la cooperativa anche attraverso questo canale e non soltanto perché lo voglio ricordare ancora e chiedo sostegno alla regia, siamo vicini al Natale quindi può essere una buona occasione quella magari di rivolgersi a voi per questi cesti che come tu hai detto bene hanno un grande valore. Quindi lo vuoi ricordare Simone prima di salutarci? Allora, appunto come ogni anno organizziamo la campagna Natale Solidale dove presentiamo i nostri cesti con i nostri prodotti ma anche prodotti di produttori locali del territorio. Sono cesti speciali, ogni cesto è un racconto, ha la propria storia, non è un semplice cesto e ogni cesto è composto da prodotti differenti. E diciamo che poi ogni contributo che noi raccogliamo serve per sostenere l'attività della cooperativa della cooperativa Noi Genitori e sostenere anche un nuovo progetto che è la realizzazione di un nuovo servizio per bambini minori con disabilità. Bene, io mi auguro che tutto questo prenda una forma concreta e che vorrete poi venire a parlarne qui ad Angoli io continuo naturalmente ad essere a vostra disposizione. Io saluto e ringrazio Simone Anghileri e Martina Fumagalli nella finestra vediamo se arriva di nuovo Martina. Ciao Martina, grazie, buon lavoro a presto, grazie a voi. Un saluto grandissimo a tutti i ragazzi della cooperativa, a quelli che conosco e che ho conosciuto di persone che sono stati qui con me quindi grazie, ci rivediamo presto e buon Natale a tutti a questo punto. Grazie, grazie anche a voi, ma rimanete lì perché Angoli tra poco torna con voi. Grazie a tutti i ragazzi.